Garufo, eccoci alla partita più importante dell'anno, la partita che può valere la promozione in Serie D, tutto in 90 minuti al Seneto contro il Re Suttana San Lorenzo. Serve la vittoria. Sì, nel calcio è sempre così, la partita successiva è sempre quella più importante, ma questa è l'ultima, questa è la partita che può determinare una conclusione per noi ambita, ambita da dieci mesi da quando è iniziata l'avventura di quest'Agrufo, di questa società, di questo gruppo che ha fatto tanti sacrifici per portare questi colori, questa maglia dove merita. Com'è l'attesa, come la state vivendo questa vigilia di partita? La squadra ha lavorato benissimo, ha lavorato bene perché oramai è una squadra che va da sola sia in consapevolezza che in atteggiamento, quindi ci fa piacere, ci tengo a precisare l'entusiasmo che c'è all'esterno, ma a noi l'entusiasmo ci deve trascinare durante, prima, durante e dopo la partita. L'entusiasmo che oggi c'è è una grande gioia per noi perché siamo riusciti a riaccendere una piazza che da diversi anni tentava il salto di categoria e poi per un motivo o per un altro non è mai successo, quindi la festa per noi sarà dopo, ora dobbiamo pensare a determinare nei 90 minuti quello che ci siamo prefissati da dieci mesi di lavoro. Parliamo della partita, la posta in palio è altissima, il pareggio forse non serve a nessuna delle due formazioni, la Resuttana deve vincere per ottenere la salvezza, la Kragas deve vincere per il salto di categoria. Non facciamo calcoli, noi dobbiamo vincere, non abbiamo mai pensato a nessuno, quindi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi perché se noi facciamo, come detto Collenna, se noi siamo e giochiamo da Kragas non ce ne sarà mai per nessuno come l'ha detto questa stagione, quindi dobbiamo continuare a macinare per 95-100 minuti, dobbiamo portare questi tre punti a casa, dobbiamo portare la categoria a casa e dobbiamo poi goderci dieci mesi di grandi sacrifici. Un ultimo passaggio sulla tifoseria, sale la febbre, tifosi pronti a sostenere l'Akragas, è previsto il pienone domenica all'Esseneto. L'Akragas è una piazza così, è una piazza che chi c'è sempre stato in questi dieci mesi, ma negli altri anni quando c'erano 400-500 persone, ora è giusto che anche i tifosi che ci sono sempre stati vivano una giornata di festa come quella che è stata Collenna, quando ci sono state più di 4.500 presenze, quindi va dato merito a chi c'è sempre stato, a chi domani verrà per la prima volta a sostenerci e chi magari il prossimo anno verrà ancora a sostenerci nella categoria che noi tutti ci auguriamo.